Alla vigilia dell'attesissima finale di Supercoppa Italiana a Riyad contro il Napoli, Lautaro Martinez, uno degli astri nascenti dell'Inter, ha condiviso le sue opinioni aspettative in una conferenza stampa. Le parole dell'attaccante argentino offrono una prospettiva preziosa sulla preparazione della squadra alla sfida imminente, oltre ad affrontare temi rilevanti, dal rendimento collettivo alla propria posizione sulla scena europea. Alla domanda sull'apparente coincidenza tra non segnare l'Inter che gioca meglio del normale, Lautaro ha sottolineato l'importanza del gioco collettivo a scapito dei gol individuali. Ha sottolineato la grande gara di tutta la squadra in un giorno specifico e ha sottolineato la necessità di mantenere quella mentalità. Il giocatore ha espresso fiducia nel lavoro di alto livello svolto con l'allenatore, sottolineando l'importanza di proseguire su questo percorso di eccellenza. Guardando la finale contro il Napoli, Lautaro ha riconosciuto la qualità dell'avversario e ha sottolineato l'importanza di fare una grande prestazione per conquistare la vittoria. Alla domanda sulla sua posizione tra i primi cinque attaccanti d'Europa, Lautaro ha risposto con umiltà, sottolineando la sua attenzione quotidiana a migliorare, a contribuire al successo della squadra e a portare gioia ai tifosi. Ha riconosciuto sentimenti di alto livello, ma ha attribuito la valutazione della sua posizione agli osservatori e alla stampa specializzata. Riguardo ai pericoli che la squadra potrebbe correre nel prossimo futuro, Lautaro ha risposto con pragmatismo, sottolineando l'importanza di restare concentrati sulla prossima partita e non farsi distrarre da altre sfide. Ha riconosciuto che il periodo fino alla fine della stagione sarà impegnativo, con partite importanti davanti, ma ha assicurato che la squadra è preparata. Lautaro ha elogiato la leadership dell'allenatore, sottolineando la fiducia del gruppo nella sua capacità di fare le scelte giuste. Ha sottolineato la disponibilità di ogni giocatore ad entrare in campo e ad adempiere al proprio ruolo, rafforzando la mentalità collettiva del gruppo. È evidente la grinta e la mentalità positiva che trasmette Lautaro Martinez. Come percepisci queste affermazioni dell'aggressore? Quali sono le tue aspettative per la finale di Supercoppa italiana e per il rendimento dell'Inter nelle prossime sfide? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto, e forza Inter!